E allora ditelo, ditelo, ufficializzatelo, fate prima, la rendiamo una serie ufficiale, una serie ASMR qui sul mio canale perché ieri ero le due, oggi è l'una e ho il telefono scarico perché stanotte non stavo dormendo ma ero fuori, sono appena rientrato a casa, ma mentre rientravo continuavo a leggere e leggere e leggere e leggere e deprimermi un pochettino su questa questione legata a Todibo, intanto ben ritrovati, ciao a tutti ragazzi, come state? Buongiorno o buonanotte, a seconda di quando vedrete questo video, quello di ieri ha portato bene anche in termini di numeri, quello di oggi credo che difficilmente riuscirà a portare bene però cerchiamo di fare del nostro meglio per avere una comunicazione chiara e lineare. Todibo, saltato, molto probabilmente Todibo saltato, quando ho letto questa cosa sinceramente faticavo a crederci, faticavo a crederci perché anche ieri notte quasi sul finale del video relativo a Cobb Maners avevamo parlato anche di questa accelerata di giuntoli nei confronti del Nizza quasi disposti a chiudere su quelle cifre che il Nizza sembrava non voler apprezzare o accettare per l'obbligo di riscatto. Ieri invece è sembrato essere arrivato il colpo di grazia definitivo che avrebbe permesso poi Todibo di vestire la maglia della Juventus. Ecco, oggi non è andata così perché a quanto pare il West Ham che si è inserito con prepotenza nella trattativa è disposto a investire sì 40, 40 milioni di euro per l'obbligo di riscatto più una percentuale per la rivendita. Non è una serata da occhiali di giuntoli, per niente, stasera no, perché poi bisogna secondo me essere bravi nel dire certe cose, bisogna essere coerenti nel dire certe cose e ci siamo sempre detti che Todibo non era il piano A, era il piano B per la Juventus, il piano A era Calafiori e se dal punto di vista di Calafiori posso comprendere che tu voglia non alzare particolarmente la richiesta dopo, anzi l'offerta dopo una richiesta molto alta e cioè 50 milioni perché un conto e prenderlo a 30 e in T5, 35, quello che ti eri messo in testa, un conto e 50, posso capire che tu scelga di percorrere un'altra strada. Secondo me è sacrosanto, anzi è anche molto intelligente, però puoi avere le idee chiare. E allora vi dico, Todibo era diventata un po' quella strada percorribile per arrivare a un piano B, Todibo era il piano B. Quando tu al 9 di agosto hai fatto saltare il piano A e non sei stato in grado di chiudere il piano B e hai lasciato aperto lo spiraglio per l'inserimento di un altro club che è arrivato in fretta e in furia in una notte di piena estate a rubarti quello che pensavi potesse inventare il tuo difensore centrale titolare, allora qui la colpa per forza di cose ricade sui dirigenti. Giuntoli non può uscirne bene da questa faccenda, anzi è una pessima operazione di mercato di Giuntoli e questa è la prima secondo me grande vera brutta figura di Giuntoli e la Juventus. Perché già il piano A era saltato e nel momento che salta il piano A e decide di andare su un piano B devi essere straconvinto, strassicuro di chiuderla a tal punto che non deve arrivare al 9 di agosto. Perché io vi ho sempre detto ho fiducia, ho fiducia in quello che farà Giuntoli, penso che riuscirà a farlo, però sono anche molto preoccupato perché il tempo stringe e allora oggi sono deluso, perché sono deluso, non c'è una mezza frase per dirlo e sono ancora più preoccupato. Perché ora bisogna cercare di trovare anche un nome in sostituzione, io sto leggendo tanti commenti, tante persone parlan di Delete, però ragazzi io credo che sia anche necessario tornare un po' sul pianeta Terra, poi magari sarà davvero Delete, la Delete costa tanto ragazzi, pagare monete e vedere cammello, se non saranno riusciti a chiudere Todibo in prestito con un obbligo di riscatto, con un prezzo inferiore ai 40, io non so come si possa pensare di chiudere Delete, perché probabilmente la Juventus non aveva la facoltà, la possibilità di andare a quelle cifre lì, se no avrebbe semplicemente chiuso Todibo. Poi Delete costa tanto anche di ingaggio, quindi non penso proprio. Io credo piuttosto che la Juventus possa andare su un nome che è già venuto fuori, si era già chiacchierato, si era già discusso. Un nome che può anche diventare forse un giocatore a bassissimo costo, che può arrivare forse anche in prestito, vedremo, perché Kivior, che è un giocatore che è già stato allenato da Tiago Motta e che poi all'Arsela non è riuscito a trovare la fortuna che pensava di avere, è un giocatore che oggi probabilmente non vedrebbe l'ora di una chance come quella della Juventus ancora una volta con Tiago Motta. Però è ovvio che se partiamo da Calafiore, arriviamo a Todibo e terminiamo con Kivior, il livello dei giocatori alla nostra disposizione è un po' un problema, anche perché ragazzi io credo che questa vada fatta, qui vada fatta un'analisi un po' più approfondita, una panoramica generale. Perché vi dico che questa è la prima grande brutta figura di Giuntoli con la Juve? Perché il discorso legato alla difesa è stato gestito male se non peggio, probabilmente è peggio di così non si poteva, perché tu oggi sei al 9 di agosto e non hai un centrale titolare, non ce l'hai. Quello che pensavi di prendere, che era il piano B, ti è stato sottratto sotto il naso perché non sei andato a chiudere, ad affondare. Sei partito che avevi anche l'impressione di poter trattenere dei giocatori che avevi già in rosa, Tiago Jalot, Rugani, Rugani lo rinnovi per darlo via, Tiago Jalot lo prende a gennaio per poi accorgerti che non è pronto. E sono due giocatori che vanno in uscita e tu ti ritrovi oggi che non hai centrali. A parte Gatti e Bremer e Danilo se lo vuoi utilizzare, non ne hai altri. Quindi la linea difensiva del Juventus oggi è un problema. Cioè è inutile girarci intorno e sarebbe sbagliato dirci delle cose diverse da queste. Cioè bisogna essere onesti con noi stessi e dire che in questo momento, in questo caso, sulla trattativa legata alla difesa, Giuntoli ha toppato alla grande. Speriamo che possa cercare di sistemarla, però io credo che oggi non sia così facile. Non voglio regalarvi sogni, non voglio vendervi un sogno o una realtà che credo che non si avvererà. Quindi quando c'è stato il bisogno di dirvi, oh per me questo, questo, questo arriva, ve l'ho sempre detto, oggi vi dico se salta al piano A, salta al piano B, se al 9 di agosto, dubito che arriverà fuori un piano C, secondo me se andrà sul piano Z che era Kivior ed era già stato identificato. Stop, questo è il mio pensiero. Poi sono lieto di sbagliarmi, nel caso sarei felicissimo di sbagliarmi, però credo che andrà così. Vi dico la verità, mi è venuto anche in mente il rinnovo di Bremer di ieri e mi sono fatto un paio di domande. Può essere collegato il rinnovo di Bremer a questa situazione? Sì oppure no? Perché è stato strano il rinnovo di Bremer, così all'improvviso. Il rinnovo che cosa ci vuol dire? Cioè è incastrata con questa nuova formazione di Todiboh, con il West Ham che sta cercando di fissare le visite mediche per domani. Quindi non è che stiamo parlando di pizze fichi che potrebbe inserirsi le visite mediche e le vorrebbero far domani. Il rinnovo di Bremer si può incastrare in qualche modo in questa cosa qua? Boh, vediamo. Intanto per la Juventus ufficiale è anche il rinnovo di Savona, quindi sui terzini si sta cercando di cautelarsi con delle aggiunte in casa. Io comunque spero che si possa andare sui terzini, andare a toccare quel reparto, perché la Juventus avrebbe bisogno di andare a costare anche un laterale difensivo, oltre che un centrale, almeno un terzino e almeno un centrale, che secondo me bisognerebbe anche incrementare proprio numericamente, non solo qualitativamente, ma anche numericamente quel reparto, quella zona, in seguito alle scelte di far uscire sia Thiago Jalou che Rugani. Ne abbiamo parlato anche ieri in live, ripeto io, tante cose non le sto comprendendo sinceramente. Su Todiboh, Todiboh per caratteristiche, avevamo fatto un video analisi anche su Todiboh, per caratteristiche era il giocatore ideale per Thiago Motta, perché Thiago Motta richiede quel tipo di gioco, quel tipo di soluzione anche da parte di giocatori un po' passi, che possano cercare di uscire dal tipico difensore centrale. I dubbi potevano essere sul centro-sinistra, avevamo parlato, avevamo un po' di dubbi nel vedere Todiboh in quella zona, perché comunque stiamo parlando di un giocatore di piede destro, e Bremer pure di piede destro, e nella difesa 4 Bremer già poteva essere considerato un'incognita. Vi dico la verità, ai prezzi che giravano, Todiboh mi sembrava un giocatore che costava tanto, quindi traduco, se domani giuntoli riesce invece a strappare 40 milioni di obbligo di riscatto più il 10% di rivendita, per me non è che fa un affare, cioè va a strapagare il calciatore. Non voglio che questo venga visto come la volpe che non arriva all'uva e dice che allora è acerba, è marcia, non mi ricordo, perché ve l'ho detto all'inizio, cioè è una pessima figura, dobbiamo partire da questo presupposto, è una pessima figura, però sinceramente quelle cifre per Todiboh un pochino mi aveva lasciato con la mano in bocca, poi era da prendere, perché nel momento in cui ti salta al piano A decidi che quello è il tuo piano B, devi prenderlo. Non ci sono modi di dirlo diversamente. Se devo dirvi che sono totalmente triste del fatto che si è assaltato Todiboh per quella cifra, perché effettivamente il West Ham va a fare un'offerta che è un'offerta molto alta, allora banalmente mi viene a dire a quelle cifre andavo a prendere Calafiori, perché anche qui non c'è un modo di dirlo, il problema è che secondo me non ci sarà un piano C, o comunque non venitemi a dire tutto di pistaggio Giuntoli in realtà sta seguendo, no, Giuntoli sta seguendo Todiboh e ce l'hanno soffiato sotto il naso con un'offerta che noi non possiamo pareggiare. Poi se da questa cosa nascerà una trattativa che ci porterà un altro tipo di giocatore magari più forte di Todiboh, io questo non lo posso sapere, credo che non sarà così e credo che la Juve dovrà molto accontentarsi. Da questo punto di vista immagino che Kivir possa essere uno di quei nomi, ma semplicemente perché era già venuto fuori, poi scartato perché Todiboh è stato considerato semplicemente meglio. Questo è. Su Cobmainers una cosa che poi magari andremo ad articolare, ma vi avevo promesso un unpopular opinion su Cobmainers, poi ne parleremo anche quando eventualmente ci saranno delle ufficialità. Offerta delle 255 milioni bonus compresi, è un'offerta alta, stiamo parlando dell'offerta che renderebbe Cobmainers il centrocampista più pagato della storia della Serie A come trasferimento interno. Quindi non stiamo parlando della povera Atalanta ricattata da Cobmainers, stiamo parlando dell'Atalanta che va a fare una delle trattative da parte di chi cede più remunerative nella storia del campionato. Quindi trattativa di altissimo livello, è un prezzo alto sì, bisogna essere chiarissimi e limpidi in questa cosa. Spero che nel caso i bonus siano difficilmente raggiungibili e che la cifra sia più vicina ai 50 che ai 55. Cobainers era il piano A della Juventus in generale del mercato, quindi andava preso, andava preso. Anche a costo di avvicinarsi alle cifre dell'Atalanta se tu lo consideravi davvero il giocatore che, a costo di dover cedere su Lea, al costo di dover cedere Wisen, che in questa situazione mi viene ancora più il nervoso da dire che ce n'era la necessità di cederlo a 13 milioni, a quanto pare sì, per arrivare a Cobmainers, quindi ok, il Cobmainers lo deve andare a prendere. L'ho un po' per la loro opinione però è questa, non c'entra niente con il costo, l'ingaggio, 50, 55, però per quanto io ami Cobmainers e sia contentissimo nel caso dell'arrivo di Cobmainers, avrei sinceramente evitato dei trasferimenti interni in Serie A con delle cifre così alte dopo quello che è successo praticamente un anno e mezzo fa alla Juventus, perché quello che è successo un anno e mezzo fa alla Juventus con tanti trasferimenti anche comunque lato Atalanta, credo che sia una cosa difficilmente dimenticabile e avrei evitato di mettere questi soldi, queste cifre all'interno del Movimento Calcio Italia. Questo lo dico con grande chiarezza, lo dico anche con grande orgoglio, per quanto poi Cobmainers mi piaccia, lo considero un tassello fondamentale, importantissimo e perfetto nello scacchiere di Tiago Motte e quindi comprendo che Tiago Motte e Giuntoli si siano fatti veramente in 4, in 8, in 12 per arrivare a questa conclusione di trattativa, però non posso nascondermi che mi dà fastidio in mettere così tanti soldi dentro il Movimento Calcio Italia. Non so se Giuntoli potrà andare a pescare altri giocatori nel campionato francese, dato che ho visto che spesso e volentieri è andato lì a pescare dei giocatori che magari non erano di primissima linea, vedremo, però sicuramente questa è una pessima notizia, una pessima figura e diventa una bella corsa contro il tempo, perché davvero tra pochissimo, tra una decina di giorni inizia il campionato e tu sei praticamente senza difesa. No good, mister no good.